Eccoci qui e chiude in bellezza questa Milano Fashion Week con questo evento strepitoso, il Fashion Art & More. Vicino a me c'è Sabrina Spinelli, ormai la conoscete, Wellness for You, ma non solo, un sacco di novità questa sera. Questa sera Sabrina ha presentato la sua Maison, ha presentato un sacco di ospiti importantissimi come Dibi che vedete qui, adesso ce ne parlerà lei, e Camperos che è un progetto proprio insieme a Sabrina. Non solo, un'ultima cosa volevo dire, volevo che ce ne parlassi tu, un premio internazionale per donna di carriera, manager, chi più ne ha più ne metta. Insomma Sabrina, un sacco di soddisfazioni quest'anno? Certo, un sacco di soddisfazioni, il Fashion Art & More continua, vi aspetto a febbraio per la prossima edizione, già si organizza in merito. Sì, questa sera ho voluto presentare la mia nuova Maison, ho fatto solo pochi capi, insomma una mini capsule, chiaramente per sponsorizzare la mia Maison, quindi una sorta di presentazione. Poi dicembre e gennaio ci sarà la personale, ci sarà una collezione completa dei miei abiti. La mia collezione l'ho chiamata Lumière, questa prima presentazione penso che è andata insomma abbastanza bene. Ringrazio appunto questi sponsor che ci sono stati per questa serata, come al solito molto grandi. Da Camperos, il grande brand che c'è il ritorno in Italia appunto di produzione del Made in Italy, dopo 20 anni ritorna appunto qua in Italia. Io sono anche la sua brand manager per quanto riguarda l'Italia e l'Europa. La multinazionale dell'Alfaparf con i gruppi della DB Center, con Gio Barone, insomma responsabile della Decoderm e GP Perrucchieri, quindi le sue pezzinature che fanno parte di Cotivella. Quindi insomma sono stata soddisfatta anche degli ospiti, ospiti internazionali, stilisti internazionali come Nadia, insomma degli stilisti veramente di eccezione. Sì, sono sempre soddisfatta di selezionare sempre più, insomma anche da quello che io sento, dagli altri, ma non mi fermo perché il successo è sempre dietro l'angolo, no? E quindi non bisogna mai fermarsi, sono contenta di quello che sto ottenendo e vado sempre più avanti, sempre di più insomma, perché crederci è la prima cosa. Quindi Sabrina, prossimi appuntamenti con la tua personale, speriamo di vederci, di essere presenti. Sicuramente. E poi alla prossima Milano Fashion Week. Sicuramente, vi aspetto a febbraio, alla prossima edizione. Molto prima ci sarà la mia presentazione della collezione completa, ok? Grazie. Grazie a tutti, arrivederci.